Un evento straordinario perché è la prima volta in 37 anni che non solo in Trentino arriva al Nord Italia quindi scelta il Nord Italia come ubicazione dove fare questo grande evento poi la scelta è ricaduta sulla nostra regione e nello specifico su Levico siamo orgogliosi ed onorati di questo, non è una cosa che è dovuta al caso perché a Levico c'è una società, una associazione sportiva che da molti anni sta occupando di danza che ha raggiunto dei prestigiosi risultati come un podio, la medaglia di bronzo ai mondiali di Barcellona evidentemente è un riconoscimento anche ad un percorso che ha fatto questa associazione sportiva che da anni si sta dedicando di danza e che ha scalato via via le vette non solamente nazionali ma anche le mondiali ottenendo dei prestigiosissimi risultati a livello mondiale Un motivo in più per dare tutto il proprio sostegno a un evento così straordinario? Assolutamente, è un motivo in più per dare il sostegno perché il nostro territorio è composto da moltissime forme di volontariato e moltissime forme di volontariato che poi uscite dai confini provinciali ottengono l'apprezzamento da parte delle altre regioni una di queste è sicuramente la danza, lo è la danza come tutti i volontari quando escono, Trentini escono dai confini nostri che poi vengono apprezzati, pensiamo ai vicini del fuoco, pensiamo agli alpini, pensiamo a varie forme di cooperazione di collaborazione e di sostanziative sociali che poi vengono appunto sicuramente apprezzate e danno lustro alla nostra regione Grazie Grazie